Andiamo al segno del cancro, è una luna che transita nel settore della casa, della famiglia, lì dovete intervenire, dovete agire, soprattutto dovete essere presenti nel rapporto con i figli, che si è fatto particolarmente problematico in quest'ultimo periodo, nel momento in cui questo mercurio è entrato nel segno dell'ariete, quindi più attenzione alle questioni che riguardano le persone giovani della vostra famiglia, è richiesto soprattutto sotto questa luna, possono arrivare anche dei piccoli scontri che in qualche modo possono lasciare anche il segno su delle persone sempre molto sensibili come voi, però cercate di farvi anche scivolare addosso certe critiche che possono piovere in questo momento, sia nell'ambito familiare sia nell'ambito professionale, insomma non dovete fare un dramma per quello che vi verrà detto o rimproverato in questa giornata.